portafranco romagnoli bello questo puro sangue arabo bello lo spettacolo fino a questo momento davanti a tutti un grande luca busin la prova il suo sac di run molto fortissimo la partenza che si porta alla scala la tensione in corda la cineteca che ha fatto Franco Romagnoli il nostro corso gratuito www.mesmerism.info va a chiudere la prova a 86-17 ha cavato il coniglio dal cilindro grande Franco Romagnoli il bec alla chiusura della scadola bello da vedere bello bello il suo impostamento dell'oggetto con il passo laterale adesso per l'unfinalo bellissima gara molto molto veloce fortunato davvero bravo bravo la prova il tempo è voluto 86-34 applausi per Franco Romagnoli Sonsanti Reine a